Si racconta com'è difficile car signorina e signore starvi dietro quando entrate e uscire dai locali porca la miseria diventa proprio un faticoso eh mi sono detto ditta 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 dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori cioè io di solito vado al mercato mi incontro due paia di montanoni quando so che ne ho bisogno è difficile che entro e esco due volte di fila in un locale per cercare di comprarmi qualche cosa e si racconta con una nuova e si racconta con una nuova Grazie a tutti 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 Grazie a tutti